Nuovo concorso di Coff Cooperative Romagna a sostegno delle nuove cooperative. A pochi giorni dalla premiazione delle tre cooperative vincenti per l'edizione 2021, Coff Cooperative Romagna ha pubblicato il nuovo bando Start Coop rivolto ai gruppi di persone che abbiano costituito o intendono costituire un'impresa cooperativa. Si tratta del secondo concorso dedicato a tutta l'area romagnola, ideato in collaborazione con Linker Romagna, IRECOP e Mila Romagna e Agenzia Assicurativa a Simoco per sostenere le nuove cooperative. Aumenta il monte premi che sale a 31.000 euro grazie al contributo di Banca Amalatestiana, Credito Cooperativo Romagnolo, la BCC e Riviera Banca. Nell'edizione 2022 saranno infatti quattro i progetti che verranno premiati con un contributo economico e con una serie di servizi a sostegno della nonata attività imprenditoriale. L'importanza di questo concorso? Naturalmente è quello di stimolare le nuove imprese a ragionare sulla possibilità di costituirsi in cooperativa e di essere sostenute in questi primi anni di attività anche attraverso l'opportunità di ricevere un piccolo premio legato al fatto della selezione dei propri progetti. Questa è la seconda iniziativa che facciamo partire come concorso cooperativa Romagna nel 2022-2023. Partiamo ora ma si concluderà l'anno prossimo e raccoglieremo da qui alla fine dell'anno tutti i progetti sia di cooperative già esistenti che si sono costituite da qualche mese e sia di gruppi di giovani che vogliano provare a cimentarsi in un progetto di impresa che sosterremo anche come analisi rispetto all'effettibilità del loro progetto e che ci aspettiamo possano essere tanti. Che tipo di cooperative cercate per questo genere di concorso? Non abbiamo un ordine preciso, come ben sapete la cooperazione si orienta e si muove su tutti i versanti economici quindi i giovani possono cimentarsi in qualsiasi tipo di loro idea che proveremo ad aiutarli a valutare se è buona, se è fattibile e se naturalmente può diventare una vera e propria impresa.